Siamo al Modena Pride Park, edizione 2 del Modena Pride 2024. L'idea è di promuovere i diritti di una comunità ancora molto spesso penalizzata. Vogliamo farci sentire, ma vogliamo che sia una festa piena di energia, piena di colore e piena di persone che sostengono i diritti di tutte le persone. La Cigella è presente al Pride oggi, come era presente 5 anni fa, perché noi siamo sempre dove ci sono diritti da garantire, da conquistare o da rivendicare. Siamo qui, oltretutto, a raccogliere le firme per il quattro referendum che stiamo proponendo, che appunto hanno l'obiettivo di rivendicare e riconquistare diritti per i lavoratori, che sono stati smantellati da una serie di provvedimenti che si sono succeduti negli ultimi 20 anni. Noi saremo sempre al fianco di chi rivendica diritti, perché i diritti aggiungono e non sottraggono a nessuno. E a noi non spaventa chi si ama, ma ci spaventa chi si odia e ci spaventa chi fa le guerre. Per il lavoro Ci metto la firma Firma anche tu Insieme alla CGL I quattro referendum per il lavoro Stabile Sicuro Dignitoso Tutelato Aboliamo i licenziamenti illegittimi Contrastiamo la precarietà Rendiamo più sicuro il lavoro negli appalti Vieni a firmare nei banchetti Nelle nostre camere del lavoro Oppure firma online Per il lavoro Mettiamoci la firma